Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 10 marzo. Ariete, sarà una giornata noiosa. Il tempo vi sembrerà scorrere lentamente. Affronterete i compiti quotidiani di malavoglia. Sul lavoro c'è bisogno di calma. Toro, sul lavoro potrete afferrare delle buone occasioni. I rapporti con i colleghi saranno più distesi del solito. In amore, vi aspetto una serata passionale. Gemelli, avrete la tendenza ad arrabbiarvi facilmente. Cercate di prendere le cose meno seriamente sul lavoro e godetevi una serata rilassante con il partner. Cancro, sul lavoro ritroverete l'armonia con l'ambiente che vi circonda. I rapporti con i colleghi saranno produttivi e riuscirete ad ottenere tutto con facilità. Leone, sul lavoro non fate programmi perché l'imprevisto è in agguato e dovrete adattarvi alle situazioni in serata cercate di creare un'atmosfera distesa nella coppia. Vergine, sarà una giornata tesa in cui non vi sentirete a vostro agio. Da nessuna parte la luna nuova opposta può risolvere comunque una disputa una volta per tutte. Bilancia, sul lavoro possono esserci dei piccoli fraintendimenti con i vostri colleghi di lavoro. Niente di preoccupante, ma il vostro umore ne risentirà. Scorpione, sarà una giornata molto intensa. La luna nuova vi rende romantici. Avrete tante occasioni per cambiare una situazione complicata. Sagittario, sul lavoro dovrete tenervi pronti ad affrontare compiti imprevisti che metteranno alla prova le vostre capacità. In amore, la luna vi rende apprensivi. Capricorno, la giornata trascorrerà veloce. Tra mille piccoli impegni che non vi daranno tregua fino a sera. Sul lavoro potrete mettere in mostra le vostre doti migliori. Acquario, potrete contare sul sostegno delle persone vicine che vi aiuteranno ad ottenere un bel successo. In amore avrete voglia di cambiare le solite abitudini. Pesci è una buona giornata in cui potrete dedicarvi alle vostre attività preferite con entusiasmo. La luna nuova nel vostro segno esalta l'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.